Ciao a tutti, buonasera e buona domenica. Benvenuti al nostro consueto appuntamento con le storie delle stelle. Oggi vi parlerò di una costellazione molto famosa che si vede già in prima serata in questi notti ormai quasi primaverili. Le costellazioni tipiche invernali come Orione, come il Toro, come l'Auriga, come i Gemelli e come il Cane Maggiore e il Cane Minore ormai sono già ad ovest e tramontano presto per dar spazio alle costellazioni che ormai fanno parte della primavera. E oggi proprio di questa vi voglio parlare, di una in particolare, è una costellazione zodiacale e ve la disegno. Vedete la sua testa sembra un punto di domanda al contrario, questa è la sua zampa anteriore, quindi vi sto già dicendo che è un animale, questa è la schiena, questa è la zampa anteriore, cioè scusate posteriore ovviamente, e questa è la coda. Avete capito di chi sto parlando? No? Va bene, allora io comunque accendo i disegni così vedete subito che sto parlando del Leone, eccolo qua. Il Leone, appunto tipica costellazione di questo periodo che sorge ad est abbastanza presto ormai, ma per vederla proprio a sud molto bene, bisogna aspettare le 22, 22 e 30, anche le 23. Magari più tardi proverò a fotografarvelo, visto che da casa mia si vede benissimo il sud. Come ogni costellazione che si rispetti ha una bellissima storia, un bellissimo mito che ovviamente lo ricorda. E soprattutto, vabbè, il Leone sappiamo tutti che è il re degli animali, quindi insomma il famoso re della foresta, il Leone, e infatti sia i Gino che era Tostane, dicevano appunto che il Leone fosse stato messo in cielo perché era il re degli animali. Per quanto riguarda invece la parte mitologica, si ritiene che il Leone di Nemea fu ucciso da Ercole nella prima delle sue 12 fatiche. Nemea era la città in cui il Leone viveva e sembra che questa città fosse a sud-est di Corinto. In questa città il Leone viveva in una caverna che aveva due aperture, dalla quale il Leone usciva per attaccare gli abitanti del luogo e proprio per questo la popolazione diminuiva considerevolmente. Il Leone era una bestia invulnerabile, pensate, la sua origine era un po' incerta. Qualcuno dice che fosse stato generato dal cane ortro, ma anche che fosse figlio del mostro Tifeo o addirittura che discendesse da Selene, la dea della luna. La sua pelle era a prova di qualsiasi arma e infatti Ercole se ne accorse quando provò a colpirlo con una freccia e vide che la freccia non non trafisse la sua pelle ma anzi ci rimbalzò sopra. Ercole allora sollevò il suo bastone e inseguì l'animale che si rifugiò nella sua caserma. Ercole bloccò praticamente un'entrata e provò ad entrare dall'altra. Col suo bastone però non riusciva a colpire il Leone perché la grotta era molto piccola, molto bassa e quindi lui non riusciva a sollevare il bastone e fare forza. Quindi si racconta che lasciò in terra il bastone e si avventò contro il Leone a mani nude. Pensate, addirittura si racconta che lui gli strinse le mani alla gola e con le sue braccia possenti riuscì a soffocarlo. Poi si portò via in trionfo sulle spalle la sua pelle. Pensate che usò gli artigli affilati dello stesso Leone come il rasoio per staccargli la pelle. Un po' macabra come cosa. Con la bocca spalancata del Leone che gli balonzolava sulla testa, Ercole aveva un aspetto più minaccioso che mai. Infatti in tante rappresentazioni Ercole comunque ha la pelle del Leone addosso proprio per questo motivo. Allora, un piccolo dettaglio. La stella più luminosa del Leone è Regolo che sta proprio nel cuore del Leone. Infatti Tolomeo lo localizzò proprio lì. Quindi è l'alfa del Leone e Regolo significa proprio piccolo re. E il suo nome in greco che è Basiliskos o Basiliskos aveva proprio lo stesso significato. La stella beta del Leone invece è Denebola ed è sta qui proprio nella coda. Ve la sto inquadrando. E dall'arabo significa proprio coda di Leone. Pensate. Quindi insomma tutte le sue le sue parti del corpo sono segnate da delle stelle. Ovviamente non sono le uniche. C'è anche la gamma del Leone che è questa che vedete qui che si chiama Algiebeda o Algieba dipende dalla lingua che usiamo. Comunque in arabo vuol dire la fronte. E come potete vedere con i vostri occhi questa non sta sulla fronte. Infatti secondo Tolomeo questa stella è sul collo del Leone come giusto che sia. Ma per gli arabi invece era invece proprio sulla fronte. Perché vedevano un Leone molto più grande rispetto a quello visto dai greci. Quindi insomma alla fine ognuno ha la sua visione. Cosa importante questa stella appunto Algieba la gamma del Leone è una famosa stella doppia. Composta da un paio di stelle giganti gialle divisibili. Ovviamente se osservate con un telescopio anche di piccola portata. Quindi pensate insomma questa è una stella doppia. Adesso ve la faccio anche vedere. Se la ingrandisco si vede proprio. Le sue stelle vicine. Quindi insomma abbastanza abbastanza bella come stella. E soprattutto visibile anche nel profondo cielo. Quindi questa è la storia del Leone il re della foresta. Una delle costellazioni più grandi del nostro cielo. E una delle costellazioni tipiche di questa primavera. E anche oggi abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione e ci aggiorniamo a domani. Buonanotte!